Si è parlato dei danni provocati dagli animali selvatici in agricoltura in un incontro tenutosi questa mattina a Filine, promosso dal Comune e dal Lanci, che ha avuto lo scopo di illustrare le strategie e gli indirizzi della Regione Toscana alla luce delle recenti normative in materia. Alla tavola rotonda ha preso parte l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi, che si è confrontato con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli operatori del settore agricolo. Abbiamo fatto tutta una serie di provvedimenti legislativi che rispondono a questi bisogni. È un problema vero, reale. Stiamo cercando ora di far funzionare bene le leggi, di collaborare con le istituzioni, con la Polizia Provinciale, con gli ATC, e di coinvolgere pienamente sia il mondo venatorio che il mondo dell'agricoltura. Talvolta non c'è da parte dei territori la conoscenza specifica delle normative approvate e della possibilità degli interventi. Capisco che c'è molta attesa. Noi chiediamo agli agricoltori ancora un po' di pazienza. Capisco che ne hanno già avuta molta e che c'è molta esasperazione, perché quando vengono meno raccolti si rischia di chiudere le imprese e di arrecare danni importanti. Noi siamo consapevoli di questo, raccogliamo tutte le sollecitazioni, anche le critiche che vengono, che ci permettono di poter intervenire laddove la legge non funziona. L'Anci ha da poco costituito un tavolo tecnico sulle tematiche dell'agricoltura. Si è costituito un tavolo agricoltura in Anci Toscana, quindi insieme a tutti i comuni della regione toscana, di cui noi come comune di Figline Incisa Valdarno facciamo attivamente parte, e quindi insieme a questo tavolo, insieme a Anci Toscana, abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa che serve proprio a rimettere insieme tutti gli attori allo stesso tavolo. Proprio perché le soluzioni in un settore che a volte presenta, insieme alle tante potenzialità, insieme alle tante risorse, anche delle criticità, le soluzioni si trovano solo se ci si mette insieme, si discute e si riflette sul problema. Grazie. 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 Grazie.